La notizia di oggi è che ci sono anche i primi tre casi da coronavirus nell'Urs 8 Berica, insomma i primi tre casi vicentini. Era il 27 febbraio e il virus SARS-CoV-2, ovvero il Covid-19, era arrivato anche nel Vicentino investendo l'ospedale San Bortolo. Ma era l'inizio, in tempi in cui ancora le indicazioni anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non erano chiare e del virus si sapeva poco. Si discuteva sul tasso di mortalità inferiore a quello della normale influenza stagionale, su chi colpiva più gli anziani con patologie, meno i giovani e i bambini che sembravano immuni, intanto di giorno in giorno salivano i contagi. E siamo a quattro casi positivi, l'ultimo segnalato è a sud della provincia. Si dice sia un calciatore vicentino che però gioca in una società di un'altra regione. Coronavirus salgono a cinque soggetti positivi nell'Usla 8. Nell'ultima ora infatti una persona si è presentata all'ospedale San Bortolo di Vicenza con i sintomi del virus. L'Usla 8 si attrezzava e nel giro di poco tempo i posti letto nelle terapie intensive salivano, arrivando a 39, il che faceva dire il 3 marzo al direttore generale Pavesi. Stiamo reggendo, allora è indubbio che negli ultimi giorni assistiamo a un incremento dei casi che noi tamponiamo e ovviamente diagnostichiamo come positivi. Per il momento abbiamo ancora spazi sia nell'ambito delle terapie intensive che nell'ambito dei letti di malattie infettive. Dilaga il virus ma Vicenza regge il 17 marzo si preparava al picco. Liberati i reparti, trovati nuovi posti letto, creato un pre-triage. Un'escalation che fortunatamente non ci sarà ma che avrà comunque numeri importanti che portano comunque alla creazione dei cosiddetti ospedali Covid. Il tutto tra carenza di mascherine, tamponi e reagenti. Superato il timore del picco si entrava nella fase della ricerca di una terapia efficace del vaccino, mentre ci si dibatteva tra tamponi e test sierologici. La grande paura lascia poi il posto ad aprilino, il tratto ad un lento e graduale ritorno alla normalità. Vengono creati progressivamente dei varchi per il controllo della temperatura, per la corretta gestione di una mascherina o dell'igiene delle mani. Il paziente potrà accedere all'ospedale solo se effettivamente ha un motivo per accedere. Una normalità che si consolida a maggio e che lascia alla fine sul terreno 103 morte a Vicenza, oltre 200 comprendendo anche gli ospedali dell'USL 7.